Levriero afgano Irish Wolfhound Levriero russo Greyhound Saluki Gangue spagnol Whippet e piccolo Levriero italiano Intanto pregherei i vincitori dei precedenti nove raggruppamenti di raggiungere il pre-ring a cui tra pochissimi istanti si andrà a raggiungere il vincitore di quest'ultimo raggruppamento che è rappresentato da tutti i Levrieri Il giudice saluti e rappresentanti di questo gruppo e vediamo vediamo quali saranno i sei gruppi selezionati grazie pre-selezionati l'Irish Wolfhound e il Barzoi Greyhound Saluki Whippet e piccolo Levriero italiano ora li vediamo muovere avanti indietro a partire dall'Irish Wolfhound razza Levriero di origine irlandese Bozoi razza di origine russa Inghilterra per il Greyhound dalla Persis saluki dalla Persis saluki e taglia per il piccolo Levriero italiano al terzo posto Whippet al secondo posto l'Irish Wolfhound e vince il gruppo il Greyhound Giro di ring per il Greyhound grazie e lo attendiamo tra pochi istanti nel pre-ring in quanto faremo entrare i dieci finalisti vi ricordo che a seguire il Best in Show avremo le coppie i gruppi di allevamento le razze italiane in via di riconoscimento il Best Juniors giovani e veterani come sempre i soggetti della finale del Best in Show entreranno in ordine di gruppo verranno giudicati poi faranno un giro di ring torneranno nel pre-ring che andremo a chiamare soltanto il terzo il secondo ed il primo classificato costo Grazie a tutti.